Ciao a tutti, sono Mattia Stifanelli, faccio questo video per raccontarvi un po' come è andata dopo la vittoria del Meeting Music Contest, organizzata appunto dal Meeting di Rimini in collaborazione con il May. Allora, che dire, subito dopo la vittoria, diciamo che mi sono chiuso in casa, ho visto i premi, per fare un po' di brainstorming sulle canzoni scritte in questi anni, per dare più o meno un senso a queste ultime. Questo proprio perché a dicembre il primo passo è stato andare in studio a Frascati da Parodoy Production con Marco Borrelli, che è appunto uno dei premi del contest, il quale poi mi ha dato la possibilità di registrare il mio primo EP. Quindi, che dire, esperienza bellissima, ne approfitto per ringraziare appunto Marco di Parodoy Production, ringraziare Federico Leo e Leila Boluri di Studio Corrente che mi hanno aiutato insomma nella produzione, e Sebastiano Forte che ha aiutato tutti noi insomma ad arrangiare e a suonare i brani. Parlando di ringraziamenti ci terrei a ringraziare appunto Otello Cenci e Giordano San Giorgi per la possibilità che mi hanno dato sia di partecipare insomma a questo contest, che poi di vincerlo e usufruire dei vari premi, e ringrazio ovviamente chi ha messo a disposizione tutti i vari premi del Meeting Music Contest, lo staff, l'organizzazione, e che dire, spero di rivederci presto e in bocca al lupo per tutto.